Oh, la tua pesca arriva, guida un mio amore dove era la mia diridiva. Le voci del neocostituito coro polifonico del liceo Manzoni di Lecco, i premi agli studenti che nel corso dell'anno scolastico si sono distinti nelle competizioni culturali e sportive, lo spettacolo teatrale Pinocchi, frutto dell'impegno degli allunni che hanno partecipato al gruppo laboratorio teatro. Saggio di fine anno per gli allievi dell'istituto a indirizzo classico e linguistico. È la serata conclusiva di un anno scolastico, cogliamo l'occasione per dare qualche premio, per dare qualche riconoscimento agli studenti che si sono distinti in qualche competizione, in qualche attività particolarmente di rilievo. E poi c'è la presentazione dello spettacolo del gruppo di laboratorio di teatro che dopo un anno di lavoro e di prove ha finalmente la possibilità di presentare a tutti noi il frutto di questo impegno. E quest'anno per la prima volta il neocostituito coro polifonico del liceo Manzoni, fra l'altro costituito da studenti, da professori, da personale ATA, abbiamo anche delle bidelle presenti, si esibirà per la prima volta in pubblico dopo sei mesi di attività dal momento della fondazione. Ha iniziato a lavorare con il gennaio 2019.